Ok, allora partiamo un po' con questa giretta. E intanto buonasera a Moreno che vedo che sei entrato. Andiamo con calma perché ci sono un sacco di robe da fare quest'oggi con questa diretta e quindi tentiamo di mettere in ordine un po' di cose prima di partire, così vediamo anche chi si collega e chi arriva. Prima di tutto un saluto a tutti quelli che sono su YouTube per ora, adesso vi giro qui in chat. Saluti anche a Joel che è appena arrivato, il buon amico delle transizioni che ormai tutti quanti avete conosciuto e scaricato. Vi do il link qui in chat per la Zoom perché se volete parlare e chiacchierare con me, link Zoom per diretta, lo mettiamo anche di qua. CTRL-C, commenta e CTRL-V, invia. Com'è adesso ci sono? Ciao Moreno, buonasera. Sono appena tornato dal lavoro, giusto per te. E adesso vediamo un po' chi arriva online. Nel frattempo... Perché sono il primo? Sono uno? Sei il numero uno su Zoom, su YouTube sono in 14. Vediamo un po' se i ragazzi si spostano anche su Zoom perché la giornata di oggi è dedicata a... Sto aprendo Resolve per capire, no io faccio in diretta, c'ho il tablet con Zoom e... Perfetto, perfetto. Intanto ho arrivato anche Mirko. Senti il mio gatto qua, lo senti? A Zoom. Un attimo, Riu. Piano piano iniziamo ad avere una ventina di spettatori su YouTube. Allora ragazzi, da YouTube io vi esorto a entrare dentro Zoom se volete farmi domande, se avete dubbi, perplessità, incertezze di qualsiasi tipo, legate al discorso appunto di Vinci Resolve. Adesso avete dubbi, perplessità, incertezze di qualsiasi tipo... Mi muto a tutti perché... Al discorso appunto di... Altrimenti mi rimbalza l'audio, rimbalza il mio audio sul vostro... sulla vostra... sulla vostra dashboard. Ok, mute all. E poi ovviamente tutti quanti potete smutarvi se volete farmi delle domande. 18 spettatori. Ok, proviamo a partire. Vediamo che cosa succede con questa... con questo test. 17 di qua e 4 o 5 di là. Partiamo, partiamo, partiamo. condividendo innanzitutto il nostro schermo legato. Quale schermo? Condividiamo, condividiamo. Share screen. Il desktop one. Ok, eccoci qua. Condividendo il desktop one, io riesco a vedere un po' di cose da una parte e un po' di cose dall'altra. Arrivo a gestire la chat e i contact request. Ambiate pazienza perché siamo... Dove lo trovo? L'altra volta ce l'avevo qui. Arrivo eh ragazzi, pazienza. Partecci once. Eccoli qua. Perché stanno iniziando ad arrivare tutti. Admit all. Ok. E voi vi ho ammessi. Perché non è facile gestire due canali di zoom e quest'altro. Adesso sposto anche questo con le faccine che per ora non ci interessa. E se volete... Eh là là, Ivan, che maglietta spettacolare che vedo. Guarda, io ho la felpa invece oggi, di chiedilo a Tommy. Allora. Mettiamoci qua. Così ho modo di vedere anche voi. E cominciamo con questo test. Siamo in 16 da una parte e in 8 su zoom. Tutte le domande che mi farete potete farle tranquillamente. Potete chiedermi quello che volete durante l'arco della serata. Spero verrà una roba fatta bene perché è il primo dei vari test. Oh, è arrivato anche il buon Andrea Torri. Ciao Andrea, buonasera. Proviamo a vedere come funziona una parte di Fusion. Quindi la prima lezione, il primo giochino che ci faremo questa sera, come prima, come primo martedì, dedicato a questi tutorial interattivi. Nel frattempo saluto Luca Matrix che è arrivato. Mentre segue l'assemblea segue anche me. Roberto mi saluta. Azzurra. Ciao anche Gabriele. Ciao Fabri. Ciao Elsie Production. Ciao Swindlers. Se volete potete entrare tutti quanti in zoom. C'è il link nella chat o anche sotto nei commenti del video. Allora, questa è la nostra piattaforma, la nostra zoom, zoom scusatemi, la nostra, il nostro Da Vinci Resolve. Vado a rimpicciolire leggermente questo, così non mi do noia da solo e inizia ad ammettere anche le altre persone, quindi anche Stefano. E diamo un'occhiata un po' a come funziona. Vabbè, Edit lo conoscete tutti. Non so, tra di voi ci sono alcune persone che hanno già fatto il corso dedicato a Fusion, quindi alcune cose saranno ovvie e scontate. Ci sono persone che il corso di Fusion non lo hanno fatto, ma se poi foste interessati sapete benissimo dove trovare i corsi su www.tomasocodolo.com in modo che possiate scaricarveli tranquillamente. Se avete fatto le lezioni a casa, avrete due video, anzi, un video e un file, un file, un'immagine, da poter utilizzare insieme a me, di modo che possiate appunto utilizzarlo. Il video è questo qui. Sono due bartender, vado a togliere l'audio che così non ci da noia, tanto non ci serve l'audio oggi. Ciao Tommaso. Saluti. Ciao Mirko, buonasera. Ciao, buonasera Atta. Ciao, buonasera. Quindi, 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 questo, diciamo questa esibizione di questi due bartender che stanno lavorando. e dietro questo cielo abbastanza triste e nudo e crudo. A me capita spesso di trovarmi in situazioni in cui ho fatto una buona esposizione, o comunque ho lavorato bene, o magari c'è un cielo osceno dietro, grigio, tipo questo qua, e poi ho la necessità in qualche maniera di andare a modificarlo, questo cielo. Quindi la soluzione più veloce e indolore è quella di creare una Fusion Clip e andare piano piano a unire, diciamo, il background e il foreground delle due immagini. Quindi, bando alle ciance, partiamo, e poi se avete domande alzate la manina, da qualche parte ci dovrebbe essere, sì, sotto nella chat, se aprite i participants, non nella chat, nella sezione participants, avrete una V verde per darmi un ok, una X rossa per dire non avete capito la mazza, un indietro per dirmi vai più pianino, un avanti per dirmi vai più veloce, e poi, insomma, delle altre cose, tipo pollici in su, pollici in giù, applausi, caffè. Oh, caffè non ce n'è, ve lo dico, un'oretta ci abbiamo, quindi niente caffè. Allora, prendiamo la prima clip. Come al solito possiamo importarla all'interno della timeline in milioni di maniere. Se avete visto anche i corsi gratuiti che faccio, lo sapete bene, ma andiamo ad importarla semplicemente con un drag and drop. Questo drag and drop mi permette di avere la mia clip qui all'interno della mia timeline, che si vedrà sul viewer della timeline, e in automatico, vabbè, questo è il viewer della mia media pool, quindi in realtà non me ne frega già più niente. Potrei anche volendo andare a chiudere il viewer della media pool, cliccando qui sopra in alto su questo viewer qua, che mi permette di avere un singolo viewer piuttosto che due viewer. Quindi un solo viewer, me ne frega niente. Tanto poi abbandoneremo anche questa sezione, che è la sezione di edit. Per Ivan va bene tutto quanto, vedo una V verde. Nel frattempo leggo un po' di domande anche su YouTube, ma vi ricordo ragazzi che ci sono i link per la diretta per entrare su Zoom per farmi poi le domande. Vedo che Gabriele è entrato anche lui su Zoom, e si sta un po' più popolando. Questa sera siamo in 10 partecipanti su Zoom e 19 su YouTube. E vado innanzitutto a togliere l'audio, così non abbiamo rotture di scatole. Per togliere l'audio, se fossimo in questa condizione qua, e cliccassi sull'audio e cancellassi l'audio, mi troverei nella bruttissima condizione che mi si cancella tutto quanto. Quindi, comando Z, e per selezionare solo l'audio, deseleziono il link qui. Vado a deselezionare questo link qui che mi linka le clip. A questo punto le mie due clip, audio e video, sono separate, vedete, e posso decidere di cancellare tranquillamente l'audio dal video. Tutto chiaro? Verde bene, rosso male, lento, veloce, ditemelo voi. Poi, prendo la mia parte invece dedicata al, non mi vengono le parole questa sera, al JPEG, e lo vado ad importare. È un JPEG, ma lo posso vedere anche da qua, semplicemente facendoci doppio clic, il viewer singolo mi passerà qua, e vedete che non è un video, è una semplice immagine. Quindi, piglio la mia semplice immagine, la sposto in timeline, e la vado a posizionare dove? All'interno della seconda traccia video. È una seconda traccia video, intanto salutiamo anche Raph, che è arrivato su YouTube, ma se vuoi Raph, sei benvenuto su Zoom, quindi puoi entrare con i link che ci sono all'interno della chat. E magari lo ripubblico nuovamente, ogni tanto ripubblico il link per la chat. Ok, e poi, 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 cosa devo fare? Per primissima cosa, devo andare a... Ok, e poi... Muto Gabriele, avvi pazienza Gabriele, ti ho mutato perché altrimenti mi rimbalza l'audio in cuffia. e cosa faccio? Vado a uniformare la clip video con la clip audio, con la clip video 1, con la clip video 2. In questa maniera qua. Visto che non l'ho guardata con attenzione, magari non l'avete vista neanche voi con attenzione la clip, mi fermo un attimo qui, mi soffermo un secondo, e vado a, diciamo, rendere trasparente la clip video 2 con il pulsante D. Quindi il pulsante D mi permette, vedete, di ingrigire quella sopra e mi fa vedere quella sotto. Funziona come dei livelli, vedo quello sopra principalmente. Perché faccio questo? Perché va bene pazzo, ma insomma, con questo spostamento qua che ho, magari gli diamo una piccola stabilizzazione a sta immagine prima di iniziare a lavorarci. Quindi guardiamo anche la stabilizzazione dell'immagine. Per fare la stabilizzazione dell'immagine, la maniera più semplice in assoluto, visto che siamo sulla versione 16 di DaVinci, è la possibilità di andare a stabilizzarla direttamente da qua. Vedete, all'interno della sezione dell'inspector abbiamo la sezione stabilization. Vado ad aprirla, quindi con un doppio clic se fosse chiusa, ok? In questa maniera, un doppio clic su stabilizzazione e la apro. Semplicemente vado, apriamo anche a LC, che è appena arrivato, semplicemente vado a dirgli, cliccando ovviamente sulla mia clip, quindi selezionandola, di stabilizzarla. Così mi levo dalle scatole intanto un piccolo problema, che sarà questa oscillazione esagerata del video, cosa che potrebbe essere abbastanza scomoda se dovessimo andare a lavorare. Così, insomma, abbiamo una clip un pochino più ferma. Ma comunque, insomma, da lavorarci ne abbiamo abbastanza. Vedo solo delle V verdi. Oh, se avete dei dubbi, apritevi il microfono, dovreste riuscire ad aprirvelo, fatemi un test magari, o con la barra spaziatrice lo aprite, oppure semplicemente facendo unmute su voi stessi. Qualcuno che fa un test? Moreno, alza la manina, perfetto. Tutti quanti che danno dei verdi. Ok, mi sembra che ci siamo. Ivan, vedo che... Sì, sto spippiolando i vari pulsanti. Ok, perfetto. Mi sembra che funzioni. E quindi, se avete domande, parlate. Non alzate la manina o cose, perché non vedo. Magari dite, Tommy, io mi giro e vedo i partecipanti che ho sull'altro monitor. Ok, proseguiamo. Ho stabilizzato l'immagine. Facciamo entrare anche Mario nella nostra Zoom call di questa sera, mentre siamo 27 su YouTube e 13 su Zoom. E vado di nuovo a abilitare, quindi a mettere di nuovo visibile la mia PinkySkyCover.jpg. Spigiando il D di nuovo. Quindi io adesso non vedo per nulla ciò che sta sopra o ciò che sta sotto. Opzione 1. E quello che vi consiglio io è questo. Se vogliamo andare a fare una color correction, un color grading, comunque a mettere a posto un po' i colori sulla nostra clip, facciamolo prima di andare in Fusion. Perché poi una volta che creeremo il Merge, il Fusion clip, avremo dei problemi, delle limitazioni, non dei problemi. Vi mostro anche questo. Lo disabilito di nuovo un attimino. Entro in Color, così facciamo una sezione tutta dedicata, e mi dedico solo alla clip dei due bartender. Cosa faccio? Vado semplicemente a tirare giù un po' i neri, ad alzare un po' i bianchi, vado a dare un po' di contrasto, e già che ci sono, aumento anche un po' la saturazione. Ok, magari creo un altro nodo, Alt S, e dopo aver creato un altro nodo, vado a dirgli che i gamma li voglio un po' più sull'arancione, quindi voglio fargli una sorta di teal and orange, ok, e i gain li tiro leggermente poca roba verso il blu. Anche gli scuri, poca roba verso il blu. Comando D per vedere com'era prima, e Alt D per vedere proprio la differenza da prima a dopo. Ci ho fatto giusto una cosetta così al volo, non voglio esagerare, non voglio perderci troppo tempo, era giusto per farvi vedere che avevamo la possibilità di lavorarlo prima di spostarci in Color, di spostarci, scusatemi, in Fusion. Ritorno un attimo in Edit, riabilito la mia Pink Sky Cover, di modo che non vedo più nuovamente il mio file qui sotto, e che cosa faccio? Vado all'interno di Fusion, ma ahimè, spostandomi in Fusion, io vedo solo ed esclusivamente il nostro cielo e nient'altro. Per chi non è avvezzo a Fusion, cercherò di essere veloce e indolore in questa parte, ma per chi non è avvezzo in Fusion, Fusion funziona con nodi. Funziona con un nodo in, ok, un media in, che è il nostro media di ingresso, e con un media out, ovvero il media di uscita. Abbiamo la possibilità di mettere un sacco di cose all'interno di questa linea di vita che collega il media in e il media out, e ciò che noi andremo a vedere nel edit finale sarà in realtà solo il media out, quindi tutti i lavori che andremo a fare oggi li faremo qui, all'interno del media in, cioè tra il media in e il media out. Per comodità andremo anche a rinominarli, però vedete che il mio media in, uno, tra l'altro se mi avvicino, vedete che ho due buchini neri qui, due pulsantini neri. Se clicco sul pulsantino uno, andrò nel viewer uno. Se clicco nel pulsantino due, andrò nel viewer due. Adesso questa cosa non sarà molto chiara, però se io le vado a disabilitare tutti e due, e vado, che ne so, a mettere il media out, non per forza di cose nel viewer di destra, ma lo voglio mettere nel viewer di sinistra perché sono masochista, lo posso mettere tranquillamente anche di qua. Nel frattempo leggo una domanda di Valerio su YouTube, perché ho un altro monitor solo per YouTube, che dice dove posso scaricare la versione 15 da usare su un PC un po' debolino? Puoi scaricare anche la versione 12, se vuoi, Valerio, e lo puoi fare direttamente dal sito di DaVinci Resolve, di Blackmagic, dove scarichi DaVinci Resolve. Invece che cliccare scarica, vai giù, 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 giù in fondo, nella sezione support, e vai lì dentro, e puoi scaricare tutte le versioni fino dalla prima in poi. Altro modo per andare a visualizzare sul viewer uno, piuttosto che sul viewer due, è cliccare il pulsante uno o il pulsante due. In questo caso, io quella che uso più pigramente, è prendere il media e spostarlo dentro. Voilà. Vedete che mi abilita il viewer di interesse, in questo caso. Quindi il viewer uno, il viewer due, è stato abilitato qua all'interno. Abbiamo capito come funziona questo, ma non ci interessa questa parte qui, perché noi abbiamo solo il media in one, e il media in one, se lo porto qui dentro, è solo questo. Mi manca il bartender, porca miseria. Dov'è? Torno in edit. Ce l'ho qui sotto, è nascosto sto bastardone. Quindi per andare a recuperare il bartender, dovrò creare una fusion clip. Quindi unire le due clip in un'unica clip. Le seleziono entrambe. Ditemi se vado troppo veloce, che rallento. E con il pulsante destro, vado a creare una new, posta, scusatemi, una new fusion clip. Appena ci clicco sopra, mi crea un'unica clip singola. Ok? Quindi non ho più nulla di doppio. Ho una fusion clip. E la riconosco anche da questo simbolino qui. Le tre stelline di fusion. Mirko Fiore, benissimo. Buonasera a tutti. Ciao Ivano. Se volete entrare in Zoom, ragazzi, sapete che il link ce l'avete lì sopra, da qualche parte, su YouTube, nella chat o anche tra i commenti. Ok, mi sposto ora su YouTube. Admit, admit. Ammettiamo Davide e ammettiamo un admin. Chi sarà admin? E poi mi sposto nella pagina fusion. Guardate che cosa è successo, avendo creato questa volta una fusion clip. Vi ricordate prima che cosa era comparso? Era comparso un media in one e un media out. Stop. Non c'era nient'altro. Non c'erano media two e non c'erano dei merge node. Prima di spiegarvi che cos'è uno e che cos'è l'altro, andiamo a vedere che cosa sono fisicamente. Cioè, che cos'è il media... Cioè, andiamo un po' a caso adesso, perché ho un media uno e un media due. Come faccio a sapere il media uno se è il cielo o se è il bartender e il media due se è il bartender o il cielo? Semplicemente prendo il media uno e lo sposto all'interno del viewer. Ed è il bartender. Quindi, ciao a Aldo. Se vuoi entrare Aldo su Zoom per far domande, per chiacchierare, sei il benvenuto. Insieme a Valerio, insieme a Mirko, insieme a Ivano, insieme a tutti quanti. E quindi la primissima cosa che faccio per evitare... Cioè, ve lo faccio vedere lo stesso, ma è ovvio. Se io piglio il media due e lo porto sempre qui dentro, è il cielo. Quindi, il media uno è il bartender e il media due è il cielo. Quindi cosa farò? Prendo pulsante destro su media one per non far del casino. Ragazzi, rinominatevi i nodi, perché adesso ci sono tre nodi in croce. Quando iniziamo ad averne 7, 8, 10, 20, 30, 50, non ci si capisce più una mazza. Quindi media one, e questo è il primo degli episodi che vorrei fare. Se poi vi piacerà, andremo avanti. Media one, e vado a fare rename con qui. Rename è anche il pulsante F2. Quindi io, per comodità, da adesso in poi utilizzerò F2. Sulla mia tastiera del Mac è function e il disegnino della luminosità F2. E lo andiamo a chiamare bartender. E gli diamo ok. Tommy, posso porti una domanda? Dimmi tutto, Gabriele. Voglio chiederti. Facendo un video con la termocamera, è possibile fare un montaggio video con questo programma? Sì, certo. Sì? Sì, sì. Tu inserisci la clip, tu con, che ne so, il Mavic 2 Enterprise Dual, prendi i due file, perché hai sia un file normale che un file termico, e li puoi lavorare contemporaneamente, assolutamente. anche su magari due tracce video, una sopra l'altra, per poterci lavorare più comodamente. Assolutamente. Oh, ok, ti ringrazio. Di niente. Mentre Media 2, abbiamo detto che è il cielo, quindi function F2, e lo chiamiamo sky. Ok. Ora abbiamo un po' di ordine e disciplina. Vi faccio notare una cosa, ci sono delle righe colorate che uniscono i bartender a questo nodo di unione, un merge node, che unisce i due nodi per poi portarli con un'altra linea all'interno del Media Out. Guardiamo un attimo come sono fatti i nodi. C'è un triangolino blu, che è un triangolino legato agli effetti, alle maschere. Un triangolino, un rettangolino quadrato, che è l'output, ciò che butta fuori. Dove va a finire il mio output? In un triangolino giallo, oppure in un triangolino verde. Scusatemi che tolgo, che tolgo WhatsApp, se no mi casino, e ammetto Franco che sta entrando. Dicevo, questo Media, in One o Media Two, ci permette di entrare o in un triangolino giallo, che è il background, o in un triangolino verde, che è il foreground. Per chi ha già fatto il mio bellissimo corso di Da Vinci Resolve, nella sezione Fusion, c'è un utilissimo shortcut che vi permette di spostare il verde e il giallo e flipparli l'uno con l'altro. Perché dico questo? Perché io, il bartender, non lo voglio nel giallo, che è il background. Non lo voglio dietro il bartender. Io il bartender lo voglio davanti, dietro voglio il cielo, che poi andrà a bucare la parte di cielo che mi interessa. Tutto chiaro? se questa cosa non vi è chiara, facciamo ben presto. Abbiamo detto che il bartender deve rimanere dietro, quindi in foreground, non in background. scusatemi, sì, in foreground, non in background. Quindi lo vado a cancellare. Cancello le linee. Per cancellare le linee basta cliccarci sopra nella parte più vicina al nodo, ok? Quindi lo sky andrà a finire non nel foreground, ma nel background. Quindi prendo lo sky dall'output e lo porto nel giallo, che è il background. Se non sapete qual è il background o il foreground, tenendo pigiato alt e prendendo l'output e portandolo qua, lasciandolo, potete scegliere se metterlo in background, in foreground o nell'effect mask. Abbiamo detto che il cielo va nel background, quindi background. Automaticamente il bartender andrà dove? Nel verde, nel foreground. Eccoci qua. Se mi state scrivendo in chat, ragazzi, non lo vedo. Ok, no, perfetto. Non ci sono chat di qua. Perché non ho attivato la chat di Zoom, quindi parlate se avete bisogno. Mirko, benissimo. Grazie mille, Tommy. Spero che prossimamente scaricherò il tuo corso. Speriamo di sì, Valerio. Un saluto ad Aldo che si è già trasferito anche di qua. Ah, sì, l'avevo già visto. Franco è entrato anche lui. La prima volta che uso Zoom vi seguo comunque con interesse. Vai, Franco, tranquillo. Se vuoi testare, provare, parlare, far domande, puoi abilitare il tuo microfono e puoi farmi le domande come e quando ti pare, senza nessun problema. Basta che non vi sormontiate l'uno con l'altro. Una cosa che vi voglio far notare è che non c'è una logicità su Fusion. Cioè io posso spostare il mio nodo dove mi pare e il verde mi segue. Ok? Giusto così per dire. Perfetto. Quindi abbiamo detto che il nostro bartender entra all'interno del nodo Merge in questo momento entra come Foreground. Quindi sopra. Lo Sky entra come Background. Il comando veloce per invertire Background e Foreground è comando T. Vedete che con comando T io inverto il giallo e il verde. Ok? Scommetto che per quelli che hanno Windows sia Ctrl T. Scusate ctrl T giustamente. Ogni tanto mi scappa comando sono abituato sempre con Mac. Ok. Bartender dicevamo che abbiamo nel media nel viewer 1 e nell'output abbiamo il 2. Che cosa vogliamo andare a fare? Vogliamo andare a bucare quest'area qua. Giusto? Per bucare quest'area qua c'è un comando comodissimo. I comandi si trovano in due maniere. Chi ha fatto il corso lo sa chi non ha fatto il corso ma ascolti attentamente. Effects Library all'interno di Tools abbiamo più di 100 tipologie di effetti. Ok? Qualsiasi tipo di effetto voi vogliate è all'interno dalla renderizzazione 3D ai blur color composite deep pixel effect film filtri generatori. A me interessano in questo momento i matt i matt dentro i matt troviamo i keyer i keyer servono per andare a a a bucare tipo il chroma key quando usiamo oppure il delta keyer quando utilizziamo i green screen qua non abbiamo un green screen perché il cielo non è un green screen e non ci conviene utilizzare un ipotetico green screen ci conviene utilizzare qualcosa che lavori su che cosa? sulla luminosità perché sulla luminosità? perché le cose luminose sono il cielo e sono altre cose che a noi interesserà andare a bucare con ciò che ci sta sotto al cielo tutto chiaro? sì no forse sì ok iniziamo a vedere dei verdini delle cose bravi interagite con me su ragazzi non abbiate paura anche perché Tommaso sì scusa prima notavo che l'immagine del cielo che tu vuoi usare come sfondo era più piccola della tua dell'immagine del girato sì esatto c'è un modo per adattarlo lo fai prima lo fai dopo lo fai dopo perché hai prima la necessità di capire come bucarlo poi nel momento in cui capisci qual è la zona che riesci a bucare tramite un altro un altro tool andremo ad ingrandire il nostro file perché non è come su edit che io clicco su sky e qui c'ho un mio inspector che mi dice zoom in zoom out devo dargli dei comandi ogni nodo di fusion comporta che è fine a se stesso quindi per fare qualsiasi cosa bisogna aggiungerci un nodo subito dopo ok ok quindi partiamo da bartender e partiamo con un luma cure allora se non tengo cliccato nulla e clicco luma cure lui me lo va a posizionare nell'ultimo punto dove ho cliccato con il mouse quindi se io clicco qui e poi clicco luma cure lui mi va a mettere luma cure in quel punto lì se io voglio inserirlo abbiamo detto che lo voglio inserire per bucare che cosa il cielo del bartender quindi io lo voglio inserire dopo il bartender in questa linea qua ma se io lo sposto e basta così lui non ha preso nulla vedete non si è collegato in nessuna maniera la maniera che ho per andare ad inserirlo all'interno è opzione 1 tengo premuto shift e sposto tutto finché non mi si illumina la righina che parte da bartender e arriva a merge mollo e automaticamente vedete che mi si è attaccato e mi si è fissato approfitto per farvi vedere che cosa che nel viewer 1 abbiamo ancora bartender nel viewer 2 che abbiamo il media out è venuto sto buridume qua che non ci si capisce più una mazza che adesso andremo a mettere a posto però prima vi mostro un secondo metodo luma gear lo vado a cancellare e lo voglio inserire subito dopo bartender ma senza portarlo prima qui e poi qui se io tengo selezionato il nodo precedente a quello dove voglio andare ad inserire qualcosa automaticamente cliccando luma gear andrà a collegarsi al nodo successivo sul nodo successivo ok diventerà il nodo successivo a quello selezionato chiaro? Tommaso posso chiederti una cosa? vai Gabriel volevo chiederti ecco come stai spiegando così quando che tu hai fatto disegnante cose tipo il cielo quelle cose lì puoi salvare tutto e mentre hai da fare qualcos'altro o perdi tutto quanto? è tutto salvato se io adesso passo in edit c'è già vedi è già fatto tu quello che fai in fusion automaticamente viene fatto in edit ah ok cioè quello che tu vedi nel media out è ciò che viene buttato fuori in edit ah ok ok perfetto ok grazie niente quindi luma cure abbiamo detto però il luma cure ovviamente qualsiasi cosa vado a toccare sposto un attimo la mia faccia da qua e la sposto un po' più giù qualsiasi cosa vado a toccare nel inspector mi darà le informazioni del bartender in questo momento del luma cure aggiungiamo anche il tonello e aggiungiamo anche Marco ok benvenuti Antonello benvenuto anche Marco e 27 spettatori su YouTube e iniziamo ad essere 16 partecipanti anche qua bene dai ragazzi sono contento che vi interessi l'argomento e vado a un consiglio che vi do spassionato un mouse con tre pulsanti perché il pulsante centrale mi permette di spostarmi all'interno della mia diciamo della gestione dei nodi quindi clicco su luma cure e cliccando su luma cure vado a cavoli non riuscite a vederlo voi questa cosa qua perché c'è il mio faccione qua come faccio a togliere il mio faccione se io faccio così no non ve lo toglie ma dove in alto su va bene chi è su zoom dovrebbe vedere correttamente ah infatti stavo vedendo su YouTube stavo vedendo che il mio faccione rimane in angolo in alto a destra voi invece lo vedete in basso a destra suppongo giusto no in realtà io lo vedo insieme al mio nella barra in alto ah te lo puoi spostare tu ok perfetto io fatti da vinci lo vedo Tommaso dimmi Moreno mi ripeti come inserire velocemente il LumaKir che mi sono perso lo cancello e lo rimetto guarda lo tolgo il LumaKir lo vado a recuperare da qui in alto dove ci sono gli effects library sì fino a lì ci sono è proprio il comando come lo porti giù che si inserisce allora opzione 1 se bartender è selezionato basta un click su LumaKir e lui si attacca in automatico opzione 2 prendo il LumaKir e lo trascino dove mi pare finché la barra non diventa colorata e lo mollo perfetto se per caso l'abbiamo vedi l'ho staccato momentaneamente se per caso ce l'abbiamo così shift e lo sposti così tac stessa cosa per toglierlo io clicco shift e lo sposto dalla dalla lineetta ok quindi LumaKir abbiamo detto perfetto fighissimo però porca vacca qua il LumaKir sta lavorando un po' male perché sta lavorando dove dove non dovrebbe cioè io gli ho detto bucami il cielo lui mi sta bucando tutto il resto tranne il cielo quindi semplicemente il LumaKir sta lavorando inverso invertito qui c'è un pulsantino che è invert perché non vanno gli zoom oggi ok invert e cliccando su questo pulsantino invert lui mi va ad invertire il buco che vado a fare che è ancora abbastanza osceno perché si vede chiaramente che c'è tutto il cielo ancora tutto attorno però il vantaggio del LumaKir è che è gestibile immediatamente da qua innanzitutto sul canale potremmo scegliere a noi interessa la luminanza quindi va bene però potremmo scegliere il canale blu il canale verde il canale rosso l'alpha channel la luminanza la saturazione la profondità o la hue noi teniamo per ora la luminanza e qui sotto questo threshold ci permette questa barra ci permette di stringere i bassi e gli alti guardate che cosa succede quando stringo gli alti scusatemi i bassi e li porto verso il centro vedete che inizia a essere meno sensibile nelle parti bianche che non voglio bucare ma il cielo me lo sta bucando ancora quindi non buca quasi più qua però ancora un pochino sta lavorando ecco il cielo ce l'ho ancora come volevo tra l'altro cosa fighissima posso anche utilizzarlo sugli alti quindi posso prenderlo da qua e tirarlo indietro così vado a dargli ancora più sensazione di di spinta del colore del del viola in questo caso del pink magari allargo un po' di più così giusto perché ecco qui insomma ce la giochiamo un pochino direi che va abbastanza bene tra l'altro mi ha preso che è una cosa che mi piace molto anche il il colore sulla sulla piscina quindi se io mi sposto un po' più avanti magari guardate che bello c'è anche il riflesso del mare del mare scusatemi del cielo sulla piscina forse un po' troppo vado così ok tutto chiaro fino adesso perfetto ok quindi così funziona il lumachier la stessa cosa funziona cioè se noi avessimo avuto uno schermo verde sarebbe stata la stessa cosa solo che invece che usare il luma avremmo utilizzato il delta il delta keyer o il chroma keyer che sono quelli dedicati per bucare per bucare il verde oh scusatemi due persone da ammettere non me ne ero accorto Mirko e Antonello scusatemi vi faccio entrare eccovi qua 18 persone di qua 25 di là che bello che bel numero di gente allora abbiamo organizzato questa cosa qui ora la cosa che voglio fare è vedere come funziona quindi magari stringo un po' questo mi porto giù con questo così vedo meglio tanto il il viewer di sinistra non mi interessa adesso e questa che vedete qua è la timeline che lavora in frame per frame cioè tutti questi numeretti che vedete non sono i frame non sono i secondi del video sono i frame che funzionano chat ok ho delle chat aperte anche quindi cercherò di mettermi anche in chat Andrea con YouTube non si sarebbe mai riuscito a leggere il tuo schermo così bene qui è perfetto ottimo sono contento Andre zoom mille volte meglio di YouTube perfetto sono contento perché è una bella una bella soluzione mi dà soddisfazione non so se otterrò gli stessi numeri ma vi do un anticipo visto che siamo ormai 25 più 18 settimana prossima c'è un regalo che non c'entra con Fusion sì non è vero ho detto una puttanata che c'entra anche con Fusion anzi vi dico una cosa studiatevi bene le maschere se non le conoscete perché settimana prossima c'è un regalo e come dice il buon Ivan tira più la parola gratis che un carro di buoi quindi andiamo avanti scusatemi lo stop allora l'Umakier l'abbiamo posizionato abbiamo detto giusto ora nel momento in cui abbiamo posizionato l'Umakier cosa devo andare a posizionare vado a vado a dare il play mi sono distratto e questo è il risultato ve lo faccio vedere in edit che è più veloce forse perché deve renderizzare vediamo se me lo prende comunque si nota abbastanza che fa che fa tristezza no perché il cielo è fermo e tutto il resto si muove quindi cosa dobbiamo andare a fare noi in realtà noi dovremo andare a dire al cielo di seguire quello che fanno che fa l'immagine che abbiamo che siamo andati a filmare quindi fermare si fermare bloccare il cielo in un tracking di tutto il resto dell'immagine per fare questo occorre attivare un'opzione vediamo se ve lo faccio vedere intanto da qua si vabbè si vede abbastanza bene che il cielo sta fermo e il resto si muove e tra l'altro come aveva detto non mi ricordo più che aveva Mirko l'aveva detto prima forse c'è effettivamente un bordo notevole perché l'immagine non è grande tanto quanto il 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 video ritorniamo su Fusion e qui cosa faccio vado a inserire un nuovo nodo lo inserisco stringo un po' l'immagine così un po' più di spazio qua lo inserisco dove lo inserisco dobbiamo tracciare l'immagine del bartender quindi lo inserirò sempre dopo il mio bartender possiamo andare alla ricerca dei tracking qua si trovano abbastanza facilmente sotto la sezione tracking oppure non si sente ora si Ettore passa in zoom anche tu che tanto siamo tutti qua vi rimetto il link nuovamente di zoom tac così se volete entrare in zoom siete tutti più liberi di entrare questa pagina qua non mi serve per ora la vado a chiudere e vado ad inserire dicevo un tracking un tracker ci sono più opzioni di tracker nel corso che faccio online quello su www.tommasocodolo.com così mi faccio una marchetta con i miei 17 più 28 spettatori che magari qualcuno non l'ha ancora preso il mio corso parlo del tracker classico oggi invece parliamo del planner tracker che è un tracker che è planare è si disegna si disegna e segue le cose anche tridimensionalmente stessa cosa di prima opzione 1 se non c'è nulla di selezionato nella mia timeline qui sotto nella mia nei miei nodi e io faccio planner tracker il planner tracker mi finisce qua così in mezzo a nulla se invece ho selezionato bartender e clicco planner tracker automaticamente il planner tracker mi si collegherà vedete al mio bartender ora voglio andare a selezionare qualcosa che attiviamo anche fabri così entra anche fabri voglio andare a selezionare qualcosa che mi rimane fermo di sicuro e che può essere gestito abbastanza bene o non farò i miracoli perché ci perderò poco tempo però per farvi capire come funziona è giusto un'idea di come funziona questo prodotto innanzitutto guardo al volo il video io me lo sono già guardato prima e devo cercare un punto in cui non ci siano le persone che mi stanno in mezzo ai maroni la casa sarebbe stata bellissima perché è un posizionamento perfetto dove il cielo poi sarebbe stato perfetto peccato che nella casa i due bartender a un certo punto vedete più che i due bartender sono io che mi sposto con l'inquadratura mi entrano proprio in in quadro dentro alla casa quindi non posso andare ad utilizzare il la casa però qui dietro questa parte qua non viene toccata particolarmente vedete quindi vado all'inizio della clip di sicuro perché partiamo sempre dall'inizio per fare il tracciamento vado un attimo qua e rimpicciolisco un po' la mia clip per rimpicciolire la clip comando o control più la rotellina del mouse e vado a selezionarmi questa parte qua nel momento in cui ho selezionato il planner tracker vedete che ho un triangolino un triangolino come si dice una una crocetta che mi permette di iniziare a selezionare dei punti quindi parto selezionando i miei punti e mi prendo prendiamo solo l'alberello arriviamo fino alla piscina seguo il bordo della piscina però il bordo della piscina lo seguo molto ok esco che tanto poi si sposterà e poi arrivo qua e seguo il mio alberello adesso senza impazzire giusto per farvi vedere come funziona ora che ho selezionato questo voglio tracciarlo voglio track appunto ho un sacco di operazioni posso dargli delle opzioni di track di stabilizzazione e di altro per ora voglio solo tracciarlo voglio utilizzarlo proviamo con perspective potremo anche provare con translation rotation and scale però proviamo con perspective e vediamo come va e per dargli intanto il set iniziale siamo già al punto zero ma gli diamo un set qui iniziale e gli vado a dare questo comando qui che è parti e vai fino alla fine praticamente play e vedete che sta iniziando a tracciarmi il mio alberello dove hai cliccato play qui moreno qui sotto nell'inspector l'ultimo a destra che dice dall'inizio alla fine praticamente di fatti vedete che qui la timeline sta scorrendo perché il tracker sta dignitosamente tenendo ferma quella parte di immagine cioè sta tenendo bloccato il nostro alberello ovviamente a seconda della potenza del computer della ram che avete della scheda grafica che avete questo processo durerà più o meno secondi o minuti o crescerà il computer che poi può succedere di tutta ok ristringo un po' che non sono no sì sono schermo intero ok ma voglio vedere un po' meglio il mio vado qua gli dico fit ok perfetto e poi che cosa vado a fare vado all'interno di planner tracker qui sotto una volta che lui mi ha praticamente salvato tutti i punti non so se riuscite a vederlo però sono proprio dei puntini che sono stati presi in funzione di quello che secondo lui poteva essere giusto da ricordare come come tracciamento dei punti dal momento che lui li ha tracciati guardate qua sulla timeline mi avvicino tantissimo tutti questi che vedete sono i keyframe del mio tracciamento ok quindi ha preso una miriade di keyframe per l'esattezza uno ogni singolo frame fino alla fine della mia piccola clip a questo punto che cosa voglio fare non ho solo tracciato ho memorizzato i punti per andare ad esportare la memorizzazione di questi punti dovrò dirgli di creare un planner transform il keyframe del mio tracciamento ok quindi ha preso una miliade di keyframe un tonnello ti muto perché sentivo la mia voce di rimbalzo vado a cliccare su create planner transform appunto qua in basso siete tutti sono andato troppo veloce mi va bene come velocità create planner transform e voilà ha creato un nuovo nodo in mezzo alle scatole che cosa contiene questo nodo questo nodo contiene tutte le informazioni che sono state generate dal planner tracker semplicemente questo non ha fatto altro che memorizzare ciò che c'è dentro il planner tracker e creare un nodo di trasformazione dedicato a questo punto quello che dovrò andare a fare io sarà semplicemente dire al mio planner transform di andare ad inserirsi dove cioè ragioniamo è proprio un ragionamento che vi faccio fare questo perché è più importante ragionare che copiare quello che faccio secondo me il planner transform è tutto ciò che ha memorizzato il planner tracker nel bartender e creare un nodo di trasformazione dedicato Antonello hai bisogno di parlare o ti muto perché mi rimbalza la voce di andare ad inserirsi dove ti muto faccio il despota se hai bisogno di parlare liberati planner transform dicevo mantiene tutte le informazioni che devo andare però a mettere dove sul cielo è lo sky è il cielo che si deve muovere come si muove tutto il resto della clip quindi semplicemente shift prendo il mio planner transform e lo caccio all'interno della mia linea tra sky e merge già vedete che il mio rettangolo è completamente cambiato il mio rettangolo è bravissimo nel cielo ora ho visto la tua risposta è completamente cambiato perché lo ha deformato in virtù del movimento e del posizionamento di questa clip quindi se io vado a dare play adesso guardate il cielo come si andrà a muovere vedete che segue la casa segue l'albero si sposta con un grosso problema che mi sta lasciando del buco qua di lato questo buco qua di lato è una cosa che non va assolutamente bene come mi chiedeva Mirko all'inizio la soluzione migliore per poter per poter gestire tutto quanto è andare a creare un nodo di trasformazione tutto il resto della clip quindi semplicemente shift quindi stop prendo il planner transform e lo caccio all'interno della mia linea tra sky e merge già vedete che il mio rettangolo è completamente cambiato mio tol così non vedo tutti i 20 partecipanti vedo 2 3 4 5 6 7 8 partecipanti su zoom però ce ne sono 20 vabbè non capisco come mai funziona così ok nel momento in cui questa finisce io a dare play adesso guarda il cielo come si andrà a muovere non sento domande sento solo la mia voce io ci sono sto ascoltando ok perfetto io muto di nuovo tutti abbiate patente ogni tanto mi rientra la mia voce in buona il cielo come si come si fa ad ingrandire il cielo dobbiamo utilizzare un altro nodo il nodo di trasformazione il nodo di trasformazione si trova all'interno sempre di questi miriade di tool all'interno di transform però vi do una chicca che questa vi piacerà un sacco nel frattempo ammettiamo anche pem vi do una chicca che vi piacerà un sacco che è la possibilità di andare a richiamare i nostri effetti senza aver aperto per forza di cose la libreria per andare a richiamare gli effetti il comando rapido è shift e barra spaziatrice in questo caso però dobbiamo conoscere il nome di quello che vogliamo andare ad inserire in questo caso io so che il mio nodo che mi interessa si chiama transform e quindi scrivendo trans vedete che ho trovato il mio transform node questo non lo posso andare a spostare così vedete posso solamente andare a cliccarci sopra e poi posso andare a gli add ok nel momento in cui add transform appunto e me lo sono ritrovato qui subito dopo sky perché è questo che vogliamo andare ad ingrandire e qui Mirko mi ricollego alla tua domanda di prima abbiamo la possibilità di andare a ingrandire il nostro cielo lo vado ad ingrandire ok e se voglio posso anche che ne so spostarlo sull'asse x piuttosto che sull'asse y insomma scegliere come andare come andare a muovermi anche per a seconda dei riflessi che poi voglio sull'acqua in questo momento ho ottenuto il bartender che attraverso il planner tracker ha bucato il cielo sky e si è collegato proprio al cielo tramite un merge node che abbiamo dovuto tracciare e allineare con la stessa con lo stesso planner tracker verona max ciao a tutti si può vedere la registrazione più tardi si rimane su youtube max e poi transform per andare ad ingigantirlo a questo punto se io vado a dargli play avrò il mio cielo che non esce più che non scontorna più da fuori diciamo e avrò appunto il mio cielo che segue perfettamente l'immagine per vederlo meglio magari mi fermo qua mi sposto in edit e do play aspettiamo un attimo che renderizzi magari se avete delle domande mentre renderizza fatemele pure vedo pochissime persone sul come mai vedo partecipa ah ok si sono ora li vedo li vedo tutti quanti si era un attimo introiato il il participants e se avete domande andate mentre aspettiamo che renderizzi così vediamo cosa è venuto fuori se vi è chiaro tutto se avete dei dubbi se voglio che ne so spostarlo sull'asse X piuttosto che sull'asse Y insomma scegliere come andare questo video rimane registrato per rivederlo si rimane in questo momento ho ottenuto il bartender che attraverso il planner tracker ha bucato il cielo fermo tutti di nuovo e ti rispondo Antonello si rimane attivo su rimane attivo su su youtube tranquillamente su come tutte le dirette rimane pubblico quindi te lo puoi rivedere tranquillamente divati non faccio registrare per questo semplice motivo qua nel frattempo Scusa Tom io non uso DaVinci ma Fusion è integrato nella versione gratuita sì è integrato nella versione gratuita assolutamente ok una conferma solo in Fusion quando tu eri sul nodo transform e hai allargato il cielo quello che hai fatto bucare esternamente molto esternamente ho visto una linea verde sarebbero in teoria i bordi dell'immagine e li fa vedere fuori ok basta era solo una conferma tant'è che hai visto erano tutti deformati non aveva più la forma rettangolare perché lui ha cercato di seguire lo spostamento ok ok grazie da play questo che ci siamo vedo una prossima persona sul Tommaso sì partecipa ah ok si sono ora li vedo li vedo tutti quanti c'è una 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 domanda andate mentre aspettiamo togli youtube Antonello seguimi io ho delle discrepanze io ho delle discrepanze tra quello che vedo tra quello che fai su Resolve è quello è l'immaginetta dove io ti vedo parlare stai guardando youtube Antonello devi guardare devi guardare su zoom youtube è in ritardo youtube lo porti se vuoi siccome sei dentro a zoom che mi stai facendo le domande puoi guardare direttamente le immagini su zoom Antonello si rimane attivo su tant'è che sento l'eco di me stesso che parlo che parlo che parlo su youtube è il il bombo di youtube che stai ascoltando ed è in ritardo quindi segui solo su zoom di modo che non hai il rimbombo e soprattutto non hai il ritardo oggi è chiuso oggi è chiuso youtube perfetto poi se vuoi rivederlo su youtube perché magari ti chiedi alcune cose lo puoi rivedere tranquillamente anche domani dopo domani senza problemi tanto è online rimane online sul mio canale youtube quelle erano le discrepanze del mio parlato legate al ritardo di youtube difatti sono molto più soddisfatto di come si lavora con zoom poi replico su youtube perché comunque la maggior parte della community che mi segue mi segue su youtube però devo ammettere che zoom mi sta dando delle grosse soddisfazioni anche come feedback immediati perché riusciamo a parlarci subito e riusciamo a scambiarci subito i feedback se va tutto bene se è tutto chiaro se ci sono problemi o magari interagire in maniera più attiva no ma si vede molto bene anche si vede molto bene anche lo schema di risolvere ottimo ottimo poi stamattina ho fatto una videoconferenza con i nipotini a questione di asilo sempre con zoom non si smette mai di imparare ok facciamo play che così vediamo cosa è venuto fuori e comunque vediamo che il cielo rimane perfettamente cioè ora sembra vero sembra veramente che il cielo sia quello corretto perché è andato a matcharsi e a tracciarsi con tutto il resto della clip e porca vacca 19 e 30 cioè ho terminato tutto quanto per le 19 e 30 incredibile una chicca se volete fare una cosa in più ve la do così extra c'è la possibilità anche di gestire visto che parliamo sempre di nodi su nodi la color anche da questa pagina qua se io volessi solo gestire la color del bartender andrei a spostarmi un pochino di qua magari il mio media auto lo metto un po' più così così ho un po' più di spazio e il bartender che si trova qui vado in questa volta a sceglierla da qui da questa barra delle dei tools scusate mi chiudo la porta eccomi dicevo bartender e posso scegliere qui nella sezione della color questo pulsante qui che è color correction color corrector cliccandoci sopra ovviamente avevo tenuto cliccato bartender il color mi rimane appiccicato così bello come il sole e qui io posso andare a gestire solo per i bartender quindi non per il cielo la color magari volevo che ne so fare in mezzi toni ancora più arancioni anzi non più arancioni più rosa perché andiamo verso il colore lì dietro ecco qua e e le ombre più blu perché voglio tirare all'oscuro ecco qua una cosa del genere e quindi ho ritoccato grazie al al nodo della color correction solo la parte che mi interessava tutto chiaro? vi è piaciuta questa cosa? ok usando i cieli di luminar 4 si farebbero degli ottimi lavori essendo in grande risoluzione sì decisamente bene ragazzi ho terminato anche questa prima lezione spero vi sia piaciuta datemi dei feedback aprite i microfoni pure è fighissimo in zoom dai sono contento che vi piace sì perché poi puoi fare le domande senza perché di solito quando fai le domande in chat su youtube le domande arrivano un attimino dopo giustamente con la chat senza contare che tu stai spiegando poi devi leggere ti ho perso un attimo Ivan ti ho perso un attimo avrei io una domanda quando posso ho Ivan che sta continuando a parlare ma sei morto Ivan non ti si sente più quindi passiamo a chi era Antonello che mi ha chiesto o DJ Robbs sì DJ Robbs ci siamo mettiti da Roma se ti ricordi ti faccio i complimenti vabbè dimmi tutto allora ho seguito un video nei passaggi si vede il cambio dei colori apportati facendo anche i nodi ho sbagliato come faccio a capire cioè a rapportarli tutti uguali perché nei spezzoni uniti ho tutti i cambi di colore non hai lo stesso color correction da una parte all'altra eppure ho fatto tutti i nodi proprio perché dicevi che i nodi non ti fanno perdere diciamo le modifiche fatte a quello prima come faccio in realtà tu quando fai i nodi se le modifiche le fai tra una clip e l'altra adesso non ho qui una clip con più nodi ho solo questa singola clip però se io volessi copiare questa color su un'altra clip dovrei andare a cliccare pulsante destro e dirgli qua non ce lo posso avere perché non c'è una seconda clip però c'erebbe apply grade ti faccio un esempio guarda edit stringo un attimo questa facciamo una cosa al volo ti butto dentro due clip e le taglio ok togliamo l'audio che non serve e ho questa clip e quest'altra clip ora io voglio rendere simile questa a questa mi andrò su color e avrò questa che ha questo colore qua e questa che non ce l'ha l'opzione 1 è andare sulla clip di destinazione e mettermi sulla clip di iniziale pulsante destro e apply grade ok in questo caso lui non mi prende nulla perché la clip non è è fatta confusion effettivamente quindi sono un po' un pirla io a fartela vedere così facciamo un esempio diverso contrasto saturazione esagero un po' ok così lo visualizzi bene ok una sorta di teal and orange che adesso va molto di moda quindi comando D così era prima e così è dopo ok io se voglio avere lo stesso effetto su quest'altra clip andrò sulla clip di destinazione con il pulsante destro clicco sulla clip di origine e vado a dargli apply grade in questo modo mi ha copiato esattamente i nodi in questo caso ne ho fatto solo uno ma mi ha copiato esattamente i nodi l'uno sopra l'altro da notare che se io faccio questa cosa su una clip in cui però la luce è diversa le ombre sono diverse ecco quello dicevo ho ombre diverse ho tutto e per cui lo sto migliorando cioè lo dovevo ritoccare con gli altri nodi costantemente ecco mi va a fare tipo entro con le tre del pomeriggio e quell'altro mi va a essere con le cinque del pomeriggio lì devi avere tu è per quello i colorist fanno un brutto lavoro secondo me perché vivono in una stanza grigia senza finestra senza niente davanti a un monitor no è dura non è così scontato bisogna essere molto bravi c'è un'opzione che è questa qui ti tolgo questa guarda ti tolgo l'ultima color che ho fatto c'è un'opzione che è questa tu vai qui dentro pulsante destro grab still adesso andiamo sulle galleri qua la mia grab still ce l'ho qui mi sposto sulla still sulla clip che mi interessa e faccio così e posso andare a visualizzare più o meno quali sono i colori per poter migliorarli e mettermeli a posto mano di mano questo dove lo trovi ecco proprio per capire tra una slide e un'altra dove ho sbagliato ecco questo ti aiuta per capire la tipologia di colore tra una slide e l'altra perché qui capisci bene che il ragazzotto qua è bello moro qua è bianco che sembra un cadavere e quindi sai che potrai andare a ritoccare poi che cosa mi metterò qui e andrò a ritoccare il contrasto il ragazzotto qua è bello moro qua è arrivo arrivo e quindi sai che potrai andare a ritoccare e ciao ciao devo andare ok ragazzi direi che vi ho che vi ho spiegato tutto quello che potevo spiegarvi spero vi sia stato utile tutto quanto se qualcun'altro ha qualche domanda chi vuole andare può andare se qualcuno ha qualche domanda io 5 minuti li perdo volentieri sono argomenti troppo ampi perché facciamo magari un altro tutorial Tommaso sono Enrico volevo farti una domanda vai Enrico sì quello che tu fai come color in Fusion quindi non te lo ritrovi poi qua in Color no 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 è un nodo a parte all'interno di ciò che hai fatto in Fusion assolutamente quindi tutto sommato conviene farlo qua e separarlo perché non ci sia io ti consiglio prima di iniziare a lavorare in Color scusami prima di iniziare a lavorare in Fusion metti a posto i colori nella pagina Color e poi fai il Fusion clip in un secondo momento tanto non c'è una sequenza qualsiasi cosa fai da una parte trovi anche dall'altro giusto? esatto ok grazie grazie a te ciao a tutti bene ragazzi spero di esservi stato utile anche con questo piccola cosa ricordatevi che settimana prossima c'è un regalo spargiamo la voce spargiamo la voce e poi se non vi siete iscritti al canale youtube iscrivetevi al canale youtube se vi è piaciuto questo corso compratevi il corso completo si trova su www.tommasocodolo.com e baci e abbracci a tutti quanti se riesco a trovare il modo per uscire da zoom aiuto ciao 42 scherzi ciao a tutti ragazzi grazie ciao ciao ciao